Gianni, hai avuto paura a tornare su questo palco? Beh, io penso che, certo, uno ha sempre più paura perché col tempo le esperienze che ci hanno insegnato che possono sempre succedere di tutto, però a me piace anche rischiare, per esempio ributtarmi in gara qui a Sanremo è una cosa che mi ha dato una scossa straordinaria e con tutti i rischi che ci sono, sono qua e mi piace esserci Ti abbiamo visto emozionato la prima serata, hai chiamato Giovanotti dopo la tua performance? Allora, l'emozione di quella sera è stato il grande applauso che mi hanno fatto, l'accoglienza e quindi lì mi sono commosso, ho rivisto un po' i miei 60 anni di musica che mi passavano davanti e dico guarda che bello essere qua, poi è partita l'introduzione e dopo mi sono liberato, diciamo così e poi mi ha chiamato subito Lorenzo, mi ha detto dai stai andando forte, era abbastanza contento, gli piaceva poi naturalmente noi siamo amici, ci sentiamo tutti i giorni, insomma ci diamo dei consigli quindi siamo anche abbastanza felici che la canzone si sente in giro, le radio la suonano, ho sentito perfino canticchiarla per la strada qui a Sanremo quindi siamo molto contenti Ci racconti qualcosa del tuo videoclip? Guarda, il video è stato girato in un carcere a Roma perché ci sentiamo un po' tutti carcerati abbiamo tutti voglia di aprire le porte e le finestre di far entrare il sole perché chiaramente due anni di pandemia si parla sempre del male che passerà ma non è ancora passato quindi il desiderio che abbiamo dentro è quello di... ci siamo figurati tutti carcerati che poi esplodono scappano dalla carcere e finalmente trovano il sole per il resto io vivo in mezzo alla musica e sono contento e vado avanti anche è quello che mi dà la carica Grazie a tutti